Sì, vai, 50, sinistra 4, 100, a cartello destra per sinistra 4, destra per sinistra 4, vai 100, destra 4 per sinistra 4, sinistra 4, dosso dritto, sinistra per destra 3, sinistra per destra 3, 50, al cartello destra 3 è lunga, 50, sinistra 3, diventa 2 i cassonetti, 50, destra 2, 50, sinistra 4, lunga lunga, lunga lunga vai 100, sinistra 4, lunga lunga apre, 100, al muro sinistra 4 chiude, 4 chiude il muro, 50, allo specchio destra 3, 100, attenzione ai paletti, destra 2 sconnesso, 2 sconnesse paletti, 200, alla pianta sinistra 2, 100, al cartello sinistra 3, chiude, 3 chiude, destra 3, per sinistra 2, 2 gira e chiude, 2 gira e chiude, 100, alla pianta destra 3, sinistra 2 apre, 2 apre, 2 apre la casa, 30, destra 3, lunga 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 apre, 3 lunga 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 apre, 50, al muro destra 2, al muro destra 2, 50, al rei sinistra 3, sinistra 3, rei allo specchio chiude, 3 chiude, 50, al cartello dosso destra 3, dosso destra 3, 30, attenzione sinistra 2 chiude, 2 chiude, per destra 2 chiude, sporco, 2 chiude, sporco, 50, destra 4, destra 4, vai 100, sinistra 4 per destra 3, 4 per destra 3, e 50, al rei destra 2, per sinistra 3, vai 100, al rei sinistra 3 per destra 5, sinistra 3 per destra 5, 50, destra 4, per sinistra 3 apre, diventa 5, 5 lunga lunga, e al rei sinistra 3 sporco, e al rei sinistra 3 sporco, 100, al palo destra 3 apre, 3 apre al palo, 100, al palo sinistra 2, per destra 2, sinistra 2, per sinistra 2, 50, al muro destra 3 apre, 3 apre il muro, vai 100, vai 100, al cartello sinistra 5 lunga lunga, 50, alle piante destra 3, destra 3, 50, a sinistra 3, 50, al cartello sinistra 3, 200, 200, attenzione alle piante destra 3 lunga, 3 lunga, per subito, attenzione, inversione a sinistra, attenzione, inversione a sinistra, 200, 200, al cartello destra 5, 50, destra 3, 2 tempi, 3, 2 tempi, 100, attenzione al rei, sinistra 4 con l'avallamento, diventa 5, diventa 5, 100, e a fine rei chiude diventa 3, a fine rei chiude diventa 3, 100, destra 3, destra 3, per sinistra 3, per sinistra 3, 100, al muro sinistra 3, al muro sinistra 3, 50, 50, taglia destra 3, taglia destra 3, 50, destra 5, dosso dritto vai 100, dosso dritto vai 100, sinistra 5, 50, sinistra 3, 50, sinistra 3, per destra 3 chiude, 3 chiude, 100, al cartello sinistra 3, al cartello sinistra 3, per destra 4, 50, sinistra 4, sinistra 4, per destra 3 lunga e gira, 3 lunga e gira, dosso dritto vai 100, dosso dritto vai 100, al rei sinistra 3 lunga lunga, lunga lunga, 50, per destra 4, 50, destra 4 ancora, per sinistra 4, per sinistra 4, 50, alla mura, allo specchio, destra 3, dosso dritto, 100, c'è molta attenzione, 50, destra 2, 50, destra 2, 50, destra 2 ancora, 30 tornanti a sinistro, 30 tornanti a sinistro, 50, sinistra 4, per destra 5, per destra 5, vai 100, al capitello destra 4, attenzione sinistra 3, destra 4, attenzione sinistra 3, e sporco, per destra 3, 50, sinistra 5, vai 100, sinistra 5 lunga lunga, lunga lunga, dosso dritto, 100, e attenzione alla casa destra 4, per sinistra 5, 50, sinistra 5, vai 100, al rei sinistra 4, al rei sinistra 4, 100, 100, stai a destra e svolta sinistra, 100, destra 3, cartello, 50, sinistra 4, 50, destra 4, apre, 4, apre, 100, sinistra 5, per destra 4, lunga lunga lunga, 4 lunga lunga e a cartello chiude, e a cartello chiude, 50, alla casa sinistra 4, 100, al palo destra 3, al palo destra 3, per sinistra 3 chiude, 3 chiude, 50, sinistra 3 per destra 2, sinistra 3 per destra 2, 100, sinistra 3 lunga lunga, subito attenzione in versione a destra, subito attenzione in versione a destra, 50, 50, 50, a fine rei destra 2, per sinistra 2, per destra 3 lunga lunga, apre, 3 lunga lunga, apre, vai 100, lunga lunga apre, vai 100, al rei destra 2, al rei destra 2, per sinistra 2, 30, destra 4, 50, dosso dritto attenzione, subito sinistra 2 chiude, subito sinistra 2 chiude, per destra 3 apre, 3 apre, 50, al muro destra 4, destra 4, 50, al palo destra 3 chiude, 50, al rei sinistra 2, al rei sinistra 2, 50, sinistra 5, 50, destra 4, 4, vai 100, sinistra 5, 50, alla casa destra 5, destra 5, 50, al palo sinistra 3, per destra 3 gira, 3 gira, lunga lunga, 3 gira, lunga lunga, vai 100, vai 100, dosso in destra 3, dosso in destra 3, per sinistra 3, per sinistra 3, per sinistra 3, al rei, 50, al cartello sinistra 3, al cartello sinistra 3, 100, a fine muro attenzione, sinistra 2, fine sinistra 2, 50, destra 4, 100, sinistra 4, 30, al rei destra 2 chiude, 2 chiude, diventa lunga lunga lunga, e diventa 3, lunga lunga, e diventa 3, per sinistra 4, 50, sinistra 4 ancora, per destra 5, 50, al cartello sinistra 3, 100, sinistra 3, 200, 200, sinistra 4, sinistra 4, 100, alla mura destra 4, destra 4, dosso dritto, dosso dritto, 50, alle piante destra 3, destra 3, 30, sinistra 2, 30, sinistra 2, 30, destra 2, va in figa anche la frizione, 30, destra 2, fine prova. Dio Marco, com'è che va il cambio?